È un'attività nel settore immobiliare e saprei che oggi non puoi prescindere dal web per sviluppare rapporti con nuovi clienti. Un sito web che funziona, i social media utilizzati in maniera sinergica, un email marketing efficace e poi foto e video sono oggi strumenti essenziali per acquisire visibilità e popolarità nella rete. Avere un sito non è sufficiente, sono oltre un miliardo i siti oggi presenti in rete e solo pochissimi riescono a scalare le pagine di Google apparendo ai primi posti. I social media sono uno strumento potentissimo dove puoi metterci la faccia e conquistare la fiducia del tuo cliente. Attenzione però, se sbagli puoi compromettere la tua reputazione e portare alla cancellazione del tuo profilo o della tua pagina aziendale. Anche la mail è un modo per comunicare efficace e rapido, ma molto impersonale. Occorre quindi scrivere correttamente e utilizzare tutti quei termini caldi che ti permettono di sviluppare una relazione positiva con il tuo cliente. E poi i video e le foto sono oggi il primo strumento di viralità che propagano la tua immagine nel web. Vuoi sapere come? Scopri questo e molto altro nel corso di Web Marketing Immobiliare organizzato da Fima a Varese il 5 e 12 maggio prossimi. Compila il modulo qui a fianco e senza impegno riceverai tutte le informazioni sul corso. Inoltre parteciperai all'estrazione di due posti gratuiti. Non perdere l'occasione! Iscriviti ora!